Il Paradiso delle Signore 7, Vittorio e Matilde potrebbero adottare il piccolo Adelmo. Le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore sono ricche di colpi di scena. In primis per quanto riguarda Vittorio e Matilde, che si lasceranno andare alla passione. Tuttavia, la loro storia d'amore verrà ostacolata da Tancredi che, tornato a Milano dopo aver visto la foto pubblicitaria della moglie sul giornale, sarà furioso più che mai. Tancredi inizierà anche a sospettare che tra la moglie e Vittorio ci sia del tenero e così arriverà a far spiare Matilde da un investigatore privato, arrivando alla verità. Che ne sarà di conti e della bella Frigerio? Si sogna un lieto fine e non si esclude che, messo fuori gioco Tancredi, i due possano sposarsi e adottare il piccolo Adelmo. Matilde aveva avvertito Vittorio, Tancredi è un uomo pericoloso e non ha alcun senso della misura. Questo la spaventa, come già confidato più volte ad Adelaide che, dal canto suo, la sprona a dare una seconda possibilità al marito. Una volta arrivato a Milano, Tancredi capisce immediatamente che tra Conti e Matilde c'è molto di più di una semplice amicizia. Dopo un acceso scontro che ci sarà con la moglie a Villa Guarnieri, Tancredi deciderà di agire per conto suo, ingaggiando un investigatore privato per spiare le mosse della moglie. I suoi sospetti si riveleranno fondati. Dalle anticipazioni il paradiso delle signore sappiamo infatti che l'investigatore confermerà l'intuizione di Tancredi, che ora avrà un duplice obiettivo, riavere Matilde e mettere fuori gioco Conti. Ma il destino, a volte, interviene al momento opportuno. Al grande magazzino faremo presto la conoscenza del piccolo Adelmo, un orfanello che per il momento è ospite di Don Saverio. La sua entrata in scena non sembra affatto casuale, se pensiamo che proprio poco tempo fa Marta ha chiesto l'annullamento del matrimonio a Vittorio e che presto sarà un uomo libero di sposarsi di nuovo. Adelmo sarà fonte di ispirazione per Vittorio e Roberto, che parlano a gloria di una loro idea, organizzare al paradiso una festa benefica per gli orfanelli in occasione della Befana. Ma non finisce qui. Vittorio confiderà a Roberto di essere molto triste per il fatto di essere costretto a mantenere le distanze da Matilde. Ora che c'è di mezzo Tancredi. E, cosa ancora più commovente, la presenza di Adelmo li unisce ancora di più. I due non sanno che stanno rischiando molto. Nel finale della settima stagione del Paradiso delle Signore, ci sarà il lieto fine per Vittorio. Così sfortunato in amore, ottenuto l'annullamento del matrimonio con Marta sarebbe un uomo libero. La stessa Matilde potrebbe trovare il coraggio di fare altrettanto con Tancredi. Vivendo la sua storia d'amore con conti alla luce del sole. E chissà che i due non adottino il piccolo Adelmo, che riceverebbe il più bel regalo della sua vita trovando due genitori disposti ad amarlo e proteggerlo. Grazie a tutti.